Questa lavorazione smart è stata inserita all'interno del sito di un cliente. Si tratta di un globo terrestre in 3D, animato in 3JS, che ha l'obiettivo di mostrare le ricerche web eseguite nelle varie parti del mondo per quanto riguarda i prodotti trattati dall'azienda. Questo progetto, unico, vede sulla sinistra le diverse categorie, ogni categoria una volta selezionata mostra i risultati nel mondo, mentre sul globo sono presenti dei marker in 3D anch'essi in corrispondenza delle diverse località. Grazie a tutti! Grazie a tutti!